la luce è spenta la luce è spenta così quando arrivi per riaccenderla e se furtivamente tirarti giù lo scolto là voglio che esca fuori dalla luce voilà ah ah the humble mouth eh io sono stupido ho utilizzato tutte le faline del capisco per niente tu ci hai provato ma peccato la luce è spenta oh in effetti treboli voglio vedere i treboli in azione che cosa è che che cosa è che che cosa è che bellissimo eppala su no eh troppo easy Karajan cerca proprio di farsi ammazzare ma sai che stiamo arrivando a che mettermi più ammazzare no? no non possiamo lasciare Karajan escapare ancora possiamo prendere il pilota o distruggere il filo in ogni modo sarà troppo come un rat che interesse mmm primo passo per ammazzare tutti potremmo ammazzare questi cadavere andiamo 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 ci mettiamo davanti alla porta ecco eccolo è un qualissimo ma dove guardavi dove guardavi non treboli eh esattamente non falene eh esattamente allora l'elicottero è la ci servono i treboli ok via waaaa double vabbè ora ci possiamo prendere il filo il filo addio pilota la la l'uomo la la l'uomo è attraverso il momento di finirà che Allora Quello letto si è girato d'altra parte Sì, peccato, no? Questo era un bel diversivo, dai Non mi dico che non era un bel diversivo Dammi il cadavere, mi serve per i laser E anche la bomba di benzina Magari chili da fuori dietro di te e non davanti a te Bisogna andare avanti, grazie Tante guardie Credo che nessuna guarda verso l'alto Non è niente No, niente Non fammi nascondere il... Oui! Cinematic Sì, certo Come si servisse Il cano da macello E per il capitolo finale della serie del castello Siano Dove andremo a assassinare Karjan Per aver ordinato l'assalto al nostro dojo Noi, voi, deciderete il cam... Quale cammino... Deciderete quale cammino utilizzeremo nella prossima puntata Il cammino del ninja Cosa ve lo spiega a fare? Base Possiamo fermare il tempo Possiamo vedere la distanza Abbiamo uno giro diversivo Uno giro d'attacco Base Base Quindi così abbiamo il cammino del cacciatore Uccidiamo tutti Ma non abbiamo rifornimento Ai checkpoint degli oggetti che utilizziamo Anche se abbiamo due oggetti d'attacco Che ci permettono di uccidere molte più persone Di qualsiasi altro cammino ninja Il cammino del silenzio Sneaky Ombre polvere Passiamo inosservati Non ammazziamo nessuno perché Non abbiamo una spada Altrimenti farebbe Ting Ting Mentre corriamo Silenziosi Invisibili Non ho idea di come uccideremo Karajan senza spada Ma possiamo provarci E il cammino della saggezza Atterriamo in modo non letale le guardie Portiamo con noi il doppio degli oggetti normali Però comunque Un diversivo E uno d'attacco Non possiamo fermare il tempo Non possiamo utilizzare la vista a distanza Siamo persone normali Con uno zainetto di oggetti dietro Spero che il video vi sia piaciuto Spero che vi siano divertiti Vi ricordo che la votazione E nell'informazione di questo video E nei commenti qua sotto Spero che il video vi sia piaciuto Spero che vi sia divertiti Ci vediamo nella prossima puntata E la serie Marco dei Ninja Ciao a tutti Spero che vi sia piaciuto Spero che vi sia piaciuto On tap.